La Questura potenzia i servizi di prevenzione e controllo del territorio in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza nelle scuole superiori, prevista lunedì 25. Attenzione particolare ai luoghi dove potrebbero verificarsi assembramenti, come l'esterno degli istituti scolastici e le fermate dei mezzi pubblici frequentati dagli studenti. Le misure vengono adottate in seguito alle riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, del tavolo di coordinamento a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell'Ordine e del tavolo tecnico riunitos in Questura. Sono 28 i pullman aggiuntivi che assicureranno il rispetto della capienza massima del 50% per verificare il corretto numero di passeggeri, l'uso della mascherina obbligatoria ed evitare assembramenti. Alle fermate saranno presenti anche i controllori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, e i volontari della protezione civile coinvolti dai comuni. Ora è importante che i ragazzi dimostrino senso di responsabilità e rispettino le misure di prevenzione.